Eccoci come è stato un saluto a tutti, ben ritrovati, un buon sabato, vi ricordo come sempre di commentare numerosi, di iscrivervi al nostro canale YouTube e di provare a vincere la maglietta di Lea autografata seguendo le tre indicazioni qui sotto nei commenti a questo video. In bocca al lupo ecco qui la maglia autografata. Allora giornata di partita, giornata in cui ci aspettavamo dei cambiamenti ma sinceramente per il Milan c'è una vera e propria rivoluzione perché ovviamente il portagioca a Mignan, ricordiamo che il Milan giocherà stasera dopo Inter, dopo Juve alle 20.45 a Marassi contro il Genoa, una delle squadre rivelazione di questo campionato allenata da un ottimo Alberto Girardino. In porta a Mignan poi giocherà Florenzi visto che insomma ha riposato e subentrato nelle ultime due partite, quindi Calabria va in panchina, sulla sinistra Teo Hernandez non ha alternative, in mezzo dovranno giocare ancora Chao e Tomori, ricordiamo che poi ci sarà la pausa delle nazionali, Tomori e Chao convocati rispettivamente da Inghilterra e Germania ma non credo che giocheranno, che non avranno tanto minutaggio in questa pausa delle nazionali. Ci sarà Adli di rientro, Musa nel suo ruolo di Mezzala, Renders nel suo ruolo ormai definitivo di Mezzala e in avanti totale rivoluzione. Ciucquez sulla destra, bersagliato da alcuni pseudo tifosi sui social nei giorni scorsi, dopo il cosbagliato in settimana in Champions League. Sulla sinistra Okafor e davanti Jovic, questa è la tentazione, credo più che per desiderio di vedere Jovic o risposte di Jovic in allenamento, più per necessità, perché Giroud deve riposare alla lingua di fuori ma anche Leao ha chiuso stanchissimo una partita contro il Dortmund. Per questo rivoluzioni tutto, Okafor, Ciucquezze che sostituisce Pulisic, anche lui stanco e in avanti appunto Jovic dal primo minuto dopo un mese, una settimana dal suo arrivo. Vediamo quanto minutaggio ha, secondo me non tantissimo, però sono molto curioso di vederlo. Informazione giusta oppure no? Scrivetelo qui sotto nei commenti, scatenatevi, iscrivetevi numerosi, lasciate un bel like e provate a vincere la maglietta di Leao autografata qui sotto. Le istruzioni, in bocca al lupo!